Ciao a tutti ragazzi sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodio sono in compagnia di Xander e Chip Chop Ciao a tutti ragazzuoli Oggi mancano tutti perché allora dovrebbero essere caduti giù dall'isola Io non li vedo oggi non ci sono presentati No a parte dei scherzi ragazzi Piano piano rimarranno i duri in questa serie No a parte dei scherzi Gli altri non so Pepo è sparito da due settimane Poi carica i video in ritardo facendo il fighetto Perché la gente mi dice Luke carica i video prima perché c'è la fibra ortica Non è vero ragazzi Non è vero perché io lo carica di tutti E' Pepo che è moscia a caricare i video Pensa a cantare la notte invece a caricare i video No a parte dei scherzi Ho sentito urlare qualcosa Allora ragazzi qua è il generatore di cobblestone L'ultimo abbiamo visto nell'ultimo episodio giusto? Ora da qua noi possiamo raccogliere tutta la cobblestone che vogliamo gratis Con il piccone Ma se noi andassimo qui con questo martelletto Ci dà direttamente la gravel Ora non me l'ha data No te la dovrebbe aver data Ok eccola qua Ci dà direttamente la gravel col martello Noi la gravel la prendiamo E la andiamo a setacciare Come abbiamo visto nell'ultimo episodio Ok? Vai vai Però Chi ha messo l'altra gravel? Chi ha messo l'altra gravel? C'è una sessanta E non stiamo qua Sessanta Provaci Fate voi Fate voi Ok ci dà questi materiali Che noi abbiamo già fatto a telecamera esperiente un po' Ci ha dato tutta questa roba Lippone No Se noi prendessimo quattro di questi qua Un, due, tre, quattro Di ferro Sì Ok Vedete che quattro di ferro messi a cubo Ci dà un cubo L'iron, ore, gravel Se apriamo il libro Abbiamo completato la quest Però aspetta Ci chiede l'or sand Non so se hai notato Ora Andiamo all'or sand Come si fa? Se noi poniamo a terra Scusami Sì? Prego Questo qua Con il martello Diventa Questa polverina Questa polverina Messa sempre a cubo E ce ne avanza anche una addirittura Per cui si aumenterebbe Il L'ambaradam Ci dà A preate il libro L'iron, ore, sand Ossia quello di sabbia Ora ci chiede il dust Il dust deriva dalla sabbia Se vi ricordate Lo mettiamo a terra E sempre con il martello Ci dà altra polverina Anche qui ce ne dà cinque Invece che quattro Per cui ce ne avanza una Per cui un ciclo lungo Andrebbe sempre ad aumentare A raddoppiare i materiali Ci dà L'iron, ore, dust Apriamo il libro Abbiamo completato la quest Scegliamo lo zainetto E Io prendo il terzo Lui è il terzo Io è il terzo Io è il terzo Io ho scelto già Andiamo a una chest Andiamo a una chest Mi ho fatto io Aspetta che intanto metto Questi qua che non ci servono Metti il cuoricino va Il cuoricini GG Ah ok sì Certo solo tre cuoricini Mamma mia Tre quarti di cuore E poi abbiamo Abbiamo Oh Oh yeah Oh mio Guarda che ho trovato io Yuka 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 Guarda io che ho trovato Che hai trovato Chi hai trovato i pesci Chi hai trovato i pesci Io ho trovato i pesci Yuka Io ho trovato i pesci Il netherfish Xander Ho trovato tutto sì Guarda guarda Yuka Guarda cosa c'è Oh Oddio No Farmi di api in arrivi Farmi di api No Quanti Quanti Quattro Tre 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 quattro Le api No L'obbillion L'obbillion No Si Cioè sono i migliori Frame esistenti Quello manca Si è mancatato Grande Cipubaccio 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 Avanti E Nient'altro che Della maricoltura Una specie di griglia Ok Dobbiamo fare questa roba qua Abbiamo del filo Ce l'ho io Dovremmo avercelo comunque Se venite qua nella crafting table Faccio tutto mi Veloce Vado 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 Ok Ora per chi non lo sapesse Visto in questa serie Spieghiamo tutto Io facendo così Tenendo premuto shift Più il punto di domanda Ci craft automaticamente Quello che vogliamo Perfetto Va benissimo Questa cosa Non la sapevate Ne Il sifter lo poniamo Per il momento Qui in terra Allora Poi lo spostiamo ragazzi Giusto per adesso Non è nient'altro che una griglia Abbiamo della terra Per esempio Terra Terra non credo Non credo Una legna Una legna non lavorata Lo a dirto io La legna non lavorata c'è La gravel Ok No la gravel no Oh che ho fatto Buttate la legna là sopra Vi droppa dei pesciolini Non pesciolini Ah le formiche Tira fuori gli insetti dal legno Gli insetti Bravissimo Tira fuori gli insetti dal legno E quegli insetti ci servono per pescare Sono delle esche Guarda mi sono scelte formichine Tutte l'arbe Passate un paio anche a me Vi faccio vedere Venga Grazie Sono delle esche Con queste esche Ci permettono di pescare Con la canna verde Che abbiamo preso Nell'altra quest Se vi ricordate La canna Questa qua Red 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 Nell'inventario Di fianco All' Come si dice All'esca Se andiamo nell'acqua Che non c'è più acqua Comunque sia ci permette di pescare Guardate Fate una prova Togliete le esche Del di fianco La canna Col tasto destro Non parte La canna Se mettete L'esca Vi consuma Un'esca E parte La canna Eccola E ci danno La possibilità di fare I pesci Quelli strani Vabbè Ho sprecato L'inventario Ok Non sprecate più niente Vediamo più avanti Ora 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 Andiamo appunto Nella cosa Abbiamo completato la quest Scegliamo lo zainette E Dai Io prendo il 4 Eh io ho preso il terzo Allora Oh i vermetti I vermetti sono le esche No Usual 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 Le esche Le mettiamo qua dentro Ci servirebbe il gioco Ci smista un po' di roba qua Invece vediamo che c'è nello zainette Ragazzi io secondo zainette Secondo zainette Che becco la stessa roba Altre tre stack di legna Allora l'hai trovato Ste bamboline del cavo No io ho trovato un book Un libro Che c'è? Che inciente c'è? Che è un breaking 3 Mettilo nella cestica Oh cavolo Un disortibilità 3 Cavolo Per il piccone In diamante Casomai Eh gg si Ah vediamo Vabbè Vedremo vedremo Ok Andiamo avanti Facciamo le queste Quelle veloci A press a press Facciamo quella delle ossa No non abbiamo la farm No Possiamo fare quella dei funghi No No neanche Non abbiamo la soluzione Per cui ci servono le farm Facciamo blocchetti Potremmo fare Potremmo fare Aspetta Lo smelting Lo smelting Troppa roba Troppa roba Oppure quella dei barrel Mi sembra non troppo difficile Non vorrei sbagliare Eh ma ce ne andiamo Su un'altra pagina Xander Ah ok Vero Eh infa Vero vero Io direi Vi sto fare il video Farmare un po' di roba Magari un po' di grave Sì infatti ci serve Parecchia argilla Non è il caso adesso E ci vediamo Magari tra poco A breve Ok A dopo Cerchiamo argilla Ciao 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 Che cazzo di malattia c'hai Che è brutto poi Perché Ma perché c'hai due teste No Ma perché sei morto È morto di fame È esploso Durante la puntata Intanto ragazzi Avrete visto che sono morto Anch'io costruendo Quella cacchetta Di merda Ok Ragazzi Io Almeno una piattaforma Una piattaforma Dell'andato L'ho fatta Voi avete fatto La roba Sì Abbiamo fatto I materiali E vanno miti In teoria Allora Avete fatto Tutta questa roba Ora facciamo vedere Che con la clay Con la salvia E con la gravel Messi nella Nell'ambaradam Facciamo questa roba Anzi no Posso farla tutta addirittura Giusto? Sì Abbonda Abbonda Metti dentro Abbonda Facciamo questa Grout Che ci viene doppia Ok sì Manca solamente la gravel Ce ne viene uno stack La 64 Perfetto Questa Grout Va messa nella fornace Sì E va cotta Aspettate però Che Va cotta Ci darà In poche parole Ci darà un brick nero Che a noi servirà Per costruire queste fornaci Giganti Questa roba qua Intanto ci butta un po' di Legna Un po' di cola Eccolo qua Il seare di brick Quattro seare di brick Creeranno Un blocco Un blocco Un blocco nero Ma a noi questo brick Servirà perché Crafteremo Guardate Tutti i componenti Che a noi servono Per la fornace Per completare la quest Per cui Aspetteremo che Cuoce tutto Creeremo tutti i componenti E ci vedremo a breve Oddio Animali brutti Andiamo a dormire raga Andiamo Andiamo Non ho messo le fornace Non ho messo le torce In quelle costruzioni A dopo Ok rieccoci ragazzi Ci è venuta una brillante idea Andremo a fare A completare la quest Dell'auto smeltery Cioè scusate Non l'auto Ma la smeltery Della tinker Ci servirà Ci servirà un bel po' di roba Perché ci servirà Della argilla Della sabbia Eccetera Un bel po' Argilla Sabbia e gravel In quantità assurde Keep Alexander Farmeranno come dei farmer E invece io Creerò una piccola piattaforma Dove metterla la fornace Mi date la legna Tieni legna La farò in slab Eccetera eccetera Per cui farò In qualche slab Sì ragazzi La faremo in slab Perché in pratica Almeno non fa uno Noi mob Sta roba qua No vabbè Più che altro Per consumare Molta meno legna E a parte I mob Poi mettiamo le torce Ragazzi ci vediamo a breve Ci vediamo a breve Però ricordatevi Ricordatevi Che quasi tutti i pomeriggi Noi siamo in live Questo lo dobbiamolo sempre È vero Niente Intanto a me mi tocca farmare Sì sì Tu va a fare la costruttura Va Io farmo intanto Sì sì Vai vai Prego prego No ma faccia con comodo Prego Vabbè ragazzi A dopo A dopo Ok Abbiamo fatto un bel po' Di questi brick Siamo a 48 Ora ragazzi Vediamo un po' di crafting Giusto Ditemi cosa serve Aprile Uno Allora Scrivo Allora serve Lo smelteri controller Smelteri Tutti li smelteri Il controller Sì Il dryan serve Sì il dryan Il brick Il brick sì Sì Ok E poi devi fare altre cose Facciamo veloce Allora il brick è così Guardate Dovrei conoscere addirittura memoria Questo dovrebbe essere il dryan Poi devi fare il quadrato chest Per fare il controller Ti serve il tank? No Il tank no Ma il tavolo sì mi sembra Sì il tavolo sì Perfetto Poi ci serve questo qua Al contrario Al contrario Ma stile secchio Michele lo so memoria ragazzi GG Il quadrato chest Se l'hai fatto il quadrato chest Il quadrato chest No il controller Perfetto E poi devi fare un altro quadrato chest Col vetro al centro Per il dryan Col vetro al centro Ok perfetto Per il tank Per il tank Sì perfetto No 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 Non così Non così Non questo tank L'altro tank Ti chiamo adesso il vetro Solo un vetro al centro Ti fai un quadrato Con il vetro al centro Ah ok Perfetto Esatto GG Dovremmo avere tutto Questo è completato Cioè ragazzi No io voglio un GG in chat Madonna In chat In da qualche parte Ragazzi c'è tutto a memoria Tutta a memoria Cioè la thing che è la memoria Cioè ma giù Non scegliete il cuore Però uno potete prendere L'altro di slime Io prendo lo slime Cip prendi le pesche Le pesche Bravo io prendo lo zainetto Vai Guarda quanti blocchi Che ci ha dato Lui Voglio farla smettere Ok mettiamo tutto dentro Che sono Adesso mi riempio Poi creiamo la fornace Magari nel prossimo episodio Ok Apriamo lo zainetto Ce l'hai solo tu E tu ce l'hai Ah già che pirlo Dai che te Ci faccio vedere E quindi lascio la sospanze E lo aprirò Nel prossimo episodio Ma vabbè Non sono figlio di puttana Madonna Cosa è uscito Che è uscito Che è uscito Niente Una mazzetta Daiuk Xander Cip è tutto Mi raccomando Guardate anche i loro visuali Iscrivetevi ai canali E pollicione in su Condividete Chiamate un amico Perché chi chiama un amico Trova un tesoro Buono mi muto adesso così Un bacione Ricordate il live Ciao a tutti Ciao a tutti ragazzi